A.Fa un gran caldo Ehi, quella roccia è ignazia Ignea, idiota Atterraggio riuscito al 50% Unità a rapporto? Siamo in viaggio! Sì, signore! Ok! Costruzione annullata Inizio costruzione E ritorno conquistato Sì, signore! E ritorno conquistato Saito rapporto Rato attivato Costruzione annullata Inizio costruzione Unità a rapporto? Siamo in viaggio! Saito rapporto Nessun problema Unità a rapporto? Saito rapporto Siamo in viaggio Saito rapporto Territorio conquistato Unità a rapporto? Va bene? Unità a rapporto Va bene? Territorio conquistato Costruzione annullata Versaglio distrutto Inizio costruzione Territorio Versaglio distrutto Inizio costruzione Unità a rapporto Fermativo Unità a rapporto Forza! Unità a rapporto Oh sì! Oh sì! Staglio distrutto Sì, signore! Sì, signore! Unità a rapporto Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Costruzione annullata Inizio costruzione Saito rapporto Saito rapporto Saito rapporto Saito rapporto Territorio perduto Sì, signore! Unità a rapporto Unità a rapporto Unità a rapporto Unità a rapporto Saito rapporto Saito rapporto Arma completata Territorio conquistato Il forte è sotterato Saito rapporto Unità a rapporto Saito 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 rapporto Forza! Sì signore! Sì signore! Arriviamo! Sì signore! Forza! Sì signore! Forza! Sì signore! Unità a rapporto! Arriviamo! Unità a rapporto! Arriviamo! Unità a rapporto! D'accordo! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Sì signore! Nessun problema! Si! Sì signore! Adesso, abbiamo! Unità a rapporto! Arriviamo! Bene! Unità a rapporto! Sì signor, ferma qui! Unità a rapporto! Oh mio dio! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Siamo in viaggio! Territorio per giù! Taffa a rapporto! D'accordo! Taffa a rapporto! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Sì signore! Sì signore! Taffa a rapporto! Sì signore! Territorio conquistato! Porta! Sì signore! Porta! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Nessun problema! Sì signore! Territorio perduto! Veicolo conquistato! Sì signore! Unità a rapporto! Va bene? Unità a rapporto! Nessun problema! Sì signore! Porta! Sì signore! Azzurro! Sì signore! Va bene? Il forte è sotto attacco! Radar attivato! Unità a rapporto! Avviato! Avviato! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Capito! Sì! Si! Io faccio! Prego! Unità a rapporto! Sì signore! Avviato! Psyco rapporto! Capito! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Forza! Territorio perduto! Sì signore! Psyco rapporto! Affermativo! Unità a rapporto! Arriviamo! Sì signore! Prendiamoli! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Territorio conquistato! Unità a rapporto! Arriviamo! Rado attiva! Psyco rapporto! Unità a rapporto! Psyco rapporto! Siamo inviato! Unità a rapporto! Va bene? Arma completata! Unità a rapporto! Psyco rapporto! Nessun problema! Sì signore! Siamo inviato! Prendiamolo completato! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Prendiamoli! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Porta! Costruzione annullata! Inizio a costruzione! Sì signore! Affermativo! Psyco rapporto! Prendiamoli! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Unità a rapporto! Unità a rapporto! Siamo inviato! Psyco rapporto! Unità a rapporto! Nessun problema! Veicolo completato! Sì signore! Siamo inviato! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Nessun problema! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Psyco rapporto! Unità a rapporto. Nessun problema. Sì, signore. Sì, signore. Veicolo completato. Nessun problema. Unità a rapporto. Sì, signore. Siamo in viaggio. Unità a rapporto. Sì, signore. Nessun problema. Sì, signore. Veicolo completato. Cypher. Ok. Sì, signore. Ok. Sì, signore. Sì, signore. Ottimo! Ce l'abbiamo fatta! Sì, signore. Sì! Ottimo! Tutto a posto! Ottimo! Sì! Sì! Ok, ragazzi. Vi abbiamo circondati. Facciamoli fuori! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. A presto! A presto!